Allora Lilian, come stai vivendo queste ore in questa giornata così frenetica e convulsa? Beh, guarda, è stata una... da ieri pomeriggio a stamattina praticamente non ho vissuto personalmente perché sono stata aggredita dalla stampa e sono stata tutto il giorno con i carabinieri e già è difficile realizzare che possa essere successa una cosa del genere e in questo modo è ancora più difficile insomma. Ecco, mantenendo il riservo che impone questa situazione possiamo sapere qualcosa tipo se si è riusciti a sapere un po' la dinamica, che cosa sia successo e il perché soprattutto siete così stati oggetto di questa aggressione? Purtroppo riguardo a questo non posso dire niente perché ci sono le indagini in corso e anche le notizie non... cioè non sono arrivate notizie particolari insomma, a noi personalmente. Ok, immagino che siete in contatto con la Farnesina e che vi tengono aggiornati sullo sviluppo delle indagini ma voi come mai siete lì, avete scelto di stare lì, quali sono le attività che svolgete in quel posto e cosa la vostra volontaria stava facendo nel villaggio come opera di volontariato? Allora, io personalmente sono in contatto da ieri con la Farnesina, con l'ambasciatore italiano del Kenya e con il console onorario italiano Malindi e li sento costantemente. Africa Milele lavora soprattutto a Chakama, diciamo, da quasi cinque anni siamo lì in pianta stabile con il turnover dei volontari italiani che scendono e con lo staff africano ci occupiamo in particolar modo di educazione e sanità, abbiamo diversi progetti in atto e Silvia in particolare in questo momento era partita come referente dell'associazione quindi per seguire insieme al staff africano tutti i progetti in essere. Si è parlato di un mercato vicino, delle bancarelle, la struttura che vi ospita è distante, è vicino con com'è l'ubicazione, più o meno la geografia del posto? Allora, Chakama in realtà è un posto assolutamente rurale, ci sono le capanne, non c'è strada, non ci sono macchine, non ci sono mezzi, la nostra casa all'interno di Chakama è proprio sulla via centrale, diciamo, quindi ci sono delle costruzioni in mattoni. Non so chi abbia parlato di mercato sinceramente, io mi sono sentita solo di dire che non esistono centri commerciali, esiste il negozietto che vende i viveri, però comunque sia quanto accaduto è successo nei dintorni della nostra casa. Erano mai successi episodi simili, c'erano state altre azioni un po' così che vi facevano pensare a qualcosa di questo genere? Assolutamente no, altrimenti non avremmo mai spedito volontari, ricordo che da inizio maggio fino a fine luglio noi non abbiamo spedito nessun volontario in Kenya e abbiamo fatto rientrare quelli che c'erano perché c'è stata una pesante inondazione e quindi c'è stato un pericolo, perciò se avessimo nasato una sorta di pericolo non avremmo mai spedito altri volontari. Ciacama è veramente un posto tranquillo. Ecco voi svolgete un ruolo importantissimo, raggiungete un posto direi dove le onlus sono cosa rara, però il vostro è un importante lavoro che fate sul luogo proprio per bambini svantaggiati, quindi fate un'opera assolutamente meritoria. Sì, noi ormai appunto dicevo sono tanti anni che siamo lì e siamo un po' riconosciuti come la comunità bianca all'interno della comunità di Ciacama, anche con i vari leader perché poi c'è una gerarchia all'interno del villaggio e siamo praticamente ben voluti e anche le testimonianze di affetto che mi arrivano in questo momento da Ciacama sono tutte assolutamente positive, sono tutti che pregano per Silvia e per noi.